L'Unione dei Comuni Montani del Casentino per Autunno Day è venuta a dare un supporto molto importante, tra l'altro con due settori che sono veramente fondamentali in questo caso. Da una parte abbiamo la protezione civile, che naturalmente il Comune di Sudiano è associato proprio con la protezione civile con l'Unione dei Comuni Montani del Casentino e poi l'altro supporto è quello naturalmente di creare una cultura in ognuno di noi nelle piante che sono quelle antiche e che naturalmente possono essere molto più resistenti di quelle di oggi e anche nella cultura delle piante forestali, credo che questo sia l'obiettivo, no? Esatto, l'obiettivo principalmente è questo, facciamoci delle piante forestali che le abbiamo qui davanti e queste qui insomma riproduciamo piante casentinesi principalmente, diciamo così, per poi andare a ripiantare in foresta dove vengono fatti i dettagli appositi oppure, come sta succedendo negli ultimi tempi, queste diciamo così avversità climatiche che purtroppo distruggono parte del bosco e quindi vengono rimpiantate con nove piantine proposte da noi, dal vivaio. Stiamo parlando del vivaio da Cerreta che è veramente una storia lunghissima, tra l'altro vedete qui c'è il corniolo che era in uso molto importante proprio nei nostri territori e i ragazzi tra l'altro se lo potrebbero anche ricordare perché si piegava molto bene. Esatto, si piegava molto bene, ci si faceva le vecchie fionde, quando si era bambini le fionde insomma era un legno duro, si adattava bene a quel tipo di attrezzo diciamo così e oltretutto poi il frutto che veramente sembra una ciliegie un po' allungata però anche buono e viene in un periodo che non c'è altri frutti quindi ne veniva fatto un grosso uso. Nelle nostre zone poi tra l'altro ci sono anche piante molto particolari, dobbiamo dire per esempio le querce, da noi la querce qualcuno arriva e dice ma il bosco è tutto secco, no non è secco il bosco, è che le querce nelle loro varie tipologie come quella dei Cerri, meno che naturalmente il leccio, però in effetti perdono le foglie, in autunno naturalmente si spogliano, vanno in letargo e quindi perdono la foglia. Te hai menzionato il leccio, è una delle uniche piante quercine che non perde la foglia e quindi verde perennemente tutto l'anno però ecco principalmente la quercia nostra casentinese perde la foglia per necessità. Senti, questi invece che cosa sono? Questi qui sono lecci come ti dicevo prima, sono lecci di un anno, vedete, nate dal seme, quindi seminato la ghianda nel terreno e questa è la piantina di un anno che il primo anno come vedete c'ha la foglia spinosa, sembra quasi che non sia un leccio però poi crescendo la foglia perde quelle spinosità, usiamo questo termine, diventa la foglia rotonda che conosciamo tutti nelle piante del leccio. Questo mi fa piacere dirlo e farlo vedere, perché? Perché la cerreta si parte dal seme. Esatto, si parte tutto principalmente dal seme, seme raccolto in casentino, quindi abbiamo le nostre zone con le piante più vecchie, più grandi dove andiamo a raccogliere il seme e poi seminiamo nei periodi primaverili e autunnali e poi ecco il risultato lo vediamo qui davanti ce l'abbiamo qui con tutte le specie nostre casentinesi. Tra l'altro tra le specie casentinesi il risultato è questo, una delle cure principali che loro hanno è legata probabilmente anche alla bete bianco, giusto? Esatto, la bete bianco, insomma è un tipo di pianta dove puntiamo molto sia per i rimboschimenti che prima dicevo ora poi stiamo recuperando anche la bete della Verna che tra l'altro abbiamo la bete più alta d'Italia quindi stiamo cercando di recuperare proprio il seme e addirittura abbiamo cominciato a innestare proprio le gemme apicali di quella pianta proprio per cercare di ricreare proprio il vero abete diciamo casentinesi ecco Questo è molto bello, poi proseguendo naturalmente tra le nostre piante salendo noi abbiamo detto la quercia che è quella naturalmente abbastanza collinare quindi il primo stadio così delle nostre altezze, delle nostre altitudini ma poi quando si sale l'altra parte naturalmente che corrisponde proprio ai nostri territori è laddove si dice vengono dalle foglie lunghe Esatto, ecco, tra l'altro qui abbiamo proprio due qui in mezzo non a caso il castagno che penso che sia la pianta che ha nutrito per anni, per decenni, per centinaia d'anni usiamo qui i casentinesi perché qui con la castagna, farina, poi insomma tutto quello che concerne la castagna in se stesso e quindi è una grossa pianta che ci ha dato veramente una grande mano negli anni passati per sopravvivere È vero, questa è una cosa molto molto bella e molto importante da ricordare anche perché tra l'altro proprio grazie all'Unione dei Comuni Montani del Calentino e grazie naturalmente a quella branchia che si chiama Eco Museo noi abbiamo la possibilità di vedere in alcuni luoghi che sono caratterizzanti di queste nostre aree interne tipo Raggiolo, proprio il museo della castagna questo credo che sia anche importante ricordarlo Certo, certo Lui ha detto, cioè ci ha fatto sopravvivere Ci ha fatto sopravvivere, esatto Ora nella nostra generazione non siamo così però gli anziani, il babbo, nonno, insomma era sempre la castagna era diciamo così il fulcro di tutti i discorsi che venivano fatti perché ricascavano sempre lì giustamente perché era quello che ci ha sfamato Poi ci sono i frutti, i recuperi proprio che l'Unione dei Comuni Montani del Calentino fa qui c'è una serie di frutti, di mele che sono quelle più caratterizzanti di questo nostro territorio che come vedete sono piccole, brutte e buone Questa è la cosa principale, buone perché qui intanto principalmente diciamo che è vero che si è recuperato ormai da anni tutti i vecchi frutti che abbiamo trovato nei vari poderi abbandonati insomma qui del Calentino però principalmente queste qui sono frutte che non hanno nessun tipo di trattamento queste sono naturali proprio come vengono prodotte dalla pianta qui non viene dato nulla quindi le vediamo anche della solita qualità però comunque di varie dimensioni proprio perché la natura ha il suo ciclo e il suo corso però come dicevi prima te sono veramente ottime mangiate al punto giusto, alla maturazione giusta sono spettacolari insomma niente a che vedere con altre tipologie di mele senza menzionare le qualità Ci sono anche altre particolarità che credo naturalmente non per dilungarci ma per raccontarvi un po' quella che è la storia del nostro territorio ed è il fatto che oggi si parla sempre più di problemi climatici spesse volte dobbiamo ritornare indietro perché queste piante nessuno le annaffiava queste piante sono dovute sempre arrangiare da sé e quindi sono dovute diventare resistenti a quello che era il clima dell'altitudine dove si trovavano e nello stesso tempo nei periodi di siccità dovevano comunque recuperare acqua da quello che era da poca acqua le poche acqua che c'erano nel terreno esatto, esattamente così quindi loro si sono adattate benissimo negli arco degli anni e quindi resistono molto forte a tutte le varie intemperie che ultimamente sempre più frequentemente si presentano se volete mangiare una vera mela a febbraio o a marzo quando non ci sono in giro e si dice sempre facciamo di quello che è il nostro territorio il bene per la nostra salute mangiate la mela nesta esatto, la mela nesta che qui abbiamo alcune presenze e questa qui è proprio la mela per antonomaglia insomma dura nel tempo se addirittura si arriva alla primavera successiva mettendolo in determinata maniera conservandolo in una certa maniera la mela è sempre perfetta è ottima veramente poi naturalmente c'è la mela di Chitignano la mela Lugliola che dice già da sé a Luglie e poi c'è un'altra particolarità noi ci spostiamo da quest'altra parte andiamo di qua perché è un'altra priorità che loro hanno come proprio Unione dei Comuni Montani del Casentino e non è soltanto quella dei frutti dico io ma c'è veramente la valutazione la salvaguardia del potenziale vitivinicolo di questo nostro territorio questo lo dico di ben conoscere proprio anche un progetto che è quello del progetto per esempio del Moscatello di Subbiano il Moscatello di Subbiano era scomparso l'Arsea aveva già individuato questo vitigno che doveva esistere e grazie proprio all'Unione dei Comuni Montani del Casentino il progetto si è sviluppato con l'azienda Il Pozzo e adesso oggi quest'anno abbiamo la prima produzione abbiamo aperto la prima produzione proprio di Moscatello ed è stato giudicato da Crippo mi sembra proprio una persona che è all'interno proprio di queste valutazioni veramente ottimo quindi questo significa aver fatto un lavoro grossissimo per recuperare queste piante che come vedete sono più di una cioè non è ora io ho detto del Moscatello perché lo conosco perché è quello per antonomasia Subbiano quindi parliamo tra l'altro l'abbiamo proprio lì davanti siamo a Subbiano quindi eccolo là quella là la pianta Moscato di Subbiano questo esatto è questo qui per antonomasia abbiamo quello però abbiamo recuperato diciamo così tutte le varietà come con le mele abbiamo fatto con le viti tutte le varietà che abbiamo trovato nei poderi quindi tutta roba da ottima veramente per i vini naturalmente ora ci sono altre varietà altre tipologie altre cose però queste qui insomma è bene mantenere e recuperare quello che abbiamo in Casentina ma questo è grazie naturalmente a un lavoro che sembra a volte dice che fanno no no ecco bravo che fanno fanno un lavoro che è nascosto ma è importante nascosto perché nessuno naturalmente ci vede però è molto importante perché veramente si recupera delle cose che se no purtroppo per una serie di cose vanno a perdersi inevitabilmente ma per vederci deve accendere quell'affare là? no ora questi qui si passano un'altra tipologia del nostro lavoro non riguarda più le piante ma qui si passa sul servizio antincendio e protezione civile e queste lampade qui purtroppo e questi eventi capitano anche di notte quindi però bisogna vedere un po' qualcosa quindi questi qui ci aiutano nei punti di cortinamento oppure nei punti dove non c'è possibilità di portare luce insomma sono portati li fanno un bel fascio di luce quindi si riesce anche a operare di notte o nei momenti diciamo così oscuri diciamo che la protezione civile è un'opera veramente importante l'abbiamo già provata in più occasioni a parte degli incendi boschivi che sono comunque importanti interessanti e abbiamo visto insomma quante volte voi dovete correre insieme anche recuperando anche altre associazioni insieme a voi questa è una cosa importante li abbiamo visto con i momenti di neve quando c'è stata la neve che è caduta copiosa ma non è tanto bella è che ha creato problemi grossi e come? perché i nostri paesi sono spesse volte in montagna ci sono strade che non sono bene esatto 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 purtroppo qui si passa diciamo un'emergenza quando c'è queste calamità naturali ora negli ultimi nell'ultimo mese è capitato nell'Alto Casentino purtroppo di domenica di notte quindi siamo dovuti intervenire con le nostre squadre nostre volontari prima c'erano anche loro quindi diciamo così si va a fare una tipologia di lavoro molto particolare qui se non siamo veramente in grado consapevoli di quello che si fa insomma si rischia anche magari di peggiorare le cose perché poi si parla sempre di andare a salvare o gente o persone o animali o quant'altro quindi si parla insomma di cose abbastanza importanti credo fondamentali molto fondamentali e poi chiudo naturalmente in quello ritornando un po' a quello che il vostro la vostra sistema di protezione che è quella del bosco e noi ne sappiamo anche qualcosa perché comunque Subiano ha una quantità di boschi e sono proprio anche così preservati anche grazie naturalmente agli interventi proprio dei tagli agli interventi di rimboschimento e anche ai progetti anche di educazione al bosco dobbiamo dire così che voi fate e qui ci sono veramente delle situazioni che sono importanti perché quelle piantine che abbiamo visto servono per rimboscare servono naturalmente vedete i nesti del vivaio che ci sono proprio lì e servono naturalmente poi per contenere il bosco perché il bosco è bello ma deve essere naturalmente curato e tenuto bene al di là di quelle aree che possono essere protette come ci sono all'interno del parco delle foreste cadentinesi che invece lì non devono essere toccate ma altrimenti l'importanza del bosco è che sia curato curato esatto questo penso che sia fondamentale ora come dicevi te alcune aree che sono previste e sono già esistenti naturalmente lì è bene non entrare però nella stragrande maggioranza del nostro territorio dobbiamo un po' gestirlo se no magari si creano si viene a creare diciamo così dei problemi che magari poi diventano ingestibili in alcuni casi e quindi ecco noi facciamo anche questo qui con il lente stesso insomma si occupa molto di queste cose e qui insomma vediamo alcune foto dei rimboschimenti di tagli che abbiamo fatto e quindi questo è un altro insomma un altro foro all'occhiello dell'unione ecco allora ci ritorniamo di qua ci rigiriamo di qua dove ci sono anche gli altri operatori proprio dell'unione dei comuni montani del Casentino come vedete questa è una cosa importante 35 aree rimboscate per quanto riguarda l'abete bianco perché sappiamo tutti quanti che è un po' il simbolo del nostro Casentino l'abete bianco e naturalmente tutto questo grazie anche a loro che fanno parte non soltanto del vivaglio della Cerreta ma fanno parte della protezione civile fanno parte comunque dell'unione dei comuni montani del Casentino dei dipendenti significa lavorare spesse volte quando sei chiamato anche di notte significa non avere orari quando naturalmente c'è bisogno questo è un grande supporto che loro danno alla nostra comunità e collettività che si chiama Casentino c'è tutto e questo credo che sia fondamentale compreso anche Subbiano in cui ci si ritrova proprio per quanto riguarda abbiamo detto la parte della protezione civile e per quanto ricordo abbiamo detto anche per la proprio salvaguarda del potenziale vitivinicolo con il moscato di Subbiano ma tutto il resto significa naturalmente una protezione compreso il contenimento del bosco e la sua cura che è fondamentale la nostra Alpe se loro non la seguissero come la seguono non sarebbe così intanto avremmo delle scespaie e non avremmo l'alto fusto quindi sarebbe quasi impensabile poterci transitare all'interno proprio di questo nostro patrimonio forestale quindi ci sono veramente tante cose che loro hanno fatto loro le hanno curate e soprattutto sono curiosa perché lui è bravissimo a fare anche innesti sa fare i miei gatti andate a vedere andate a vedere il vivaio la serreta cioè quando dovete comprare una pianta valutate se dovete andare anche prima a vedere proprio il vivaio scegliete le piante che sono autoctone scegliete le mele che sono autoctone ma anche le pere perché ce ne sono dei più tipi eccetera e poi quando dovete mettere anche a dimora altre piante fate delle valutazioni compreso il castagno perché sappiamo tutti quanti che il castagno ha delle difficoltà a volte a sopravvivere ma forse vi danno qualche notizia in più che potrebbe veramente aiutarvi e questo credo che sia bello vi voglio della serreta e a Camaldoli anche una bella passeggiata una bella girata loro telefonate sì sì potete venire tranquillamente lì siamo sempre lì tutto l'anno è sempre aperto quindi anche solo giustamente come dicevi te un consiglio una parola siamo sempre presenti quindi siamo ben dieti di dare queste notizie a Grazie a tutti.